...n'alto gloria, osanna, nell'alto dei cieli. E' detto colui che viene nel nome del Signore, osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere i santifici che non ho adesso, e continui a ragionare intorno a te un popolo che da un confine all'altro nella terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo milmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e mangiatevi tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete, prendete, bevetevi tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Cristo è in Cristo, a te Dio, Padre Onipotente, nell'unità e nello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ora, diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnata Gesù. Padre nostro, che se ne dicevi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua vita, vincendo che non si preghiera. Faccio oggi il nostro Padre, che vivi a noi, che vivi a noi, che vivi a noi, come noi viviamo, come noi viviamo, come i nostri debitori. E non c'è nulla, ma liberaci dal male. Libereci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni tuo momento nell'altezza che si colpia la beata speranza e venne al nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace del Signore sia sempre con voi. Il Signore sia sempre con voi. La pace del 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 Signore sia sempre con voi. Siamo molto in te, è Cristo nostro Signore, il Signore si va con voi, e con il tuo Spirito. Allora, voglio solo ricordare che domani sera lì, per la prima volta, cominciando la preparazione dei catechisti, sia quelli che sono stati già in servizio nelle analizzate, sia quelli che vogliono decidere di collaborare alla costruzione della comunità parrucchiale, anche guardandoci ormai definitivamente del sole, domani sera alle 8, dopo un'essa misterpita, ci sarà l'incontro, il primo incontro dei catechisti del Salone Parrucchiale. Con loro che vogliono, participino domani sera, sono già due domeniche e ve lo stiamo parlando. La processione, come sapete, sarà oggi o per il giorno, se non fiove, alle volete in sé, partirà dalla chiesa di Santa Maria, farà il giro di tutto il paese, poi ritroverà qui, dove ci sarà poi la vista di Sperdini. Quindi, in questa settimana, ci sono momenti di preghiera molto interi, abbiamo il giorno 14, l'esaltazione della croce, e il giorno 15, come sapete, i ricordi dei dolori di Maria, 15 di settembre. Tutto questo, ci stimola pure a continuare la richieda, che ora continueremo sempre a fare, ormai, ogni mattina, alle 7 e 10, la promessa di Pichina, qui in questa chiesa. Mentre la chiesa di San Rocco, che c'è oggi, servirà per la messa di Sperdina, per la messa di Pichina. Ora viciniamo la mia amicazione. Vi dedica, io ripetente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, figlio e Spirito Santo. Pichino 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 e Spirito Santo. appena non c'è una piazza, non c'è una piazza, non c'è un sacco e non è meglio che sarebbe di sé non è incomp fid�ado se lav kardeşer qué non eshole by i non c'è un'impasto miss divan guarda maria draccia priona all'imensity dennegisca su il migrator dennegisca su Scrutten deve Video Grazie a tutti. 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 Noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.